11 luglio 1982 l'ultimo gradino prima di entrare in campo guardo gli avversari dritti in faccia rispetto ma niente paura siamo arrivati fin qui vogliamo vincere 11 luglio 2021 lo so ragazzi lo stadio grida ma mi deve guidare la consapevolezza di aver fatto tutto bene avete meritato di essere qui come noi allora siamo orgogliosi di voi comunque vada godetevela, divertitevi come ha detto il vostro grande mister Roberto Mancini ma durante l'indo ci deve essere solo un pensiero a guidarvi una nazione ve lo chiede ragazzi siete a Wembley per vincere dallo stadio Wembley di Londra la finale dell'europeo Italia-Inghilterra